Buonasera, cominciamo con la politica interna. Al Consiglio nazionale della democrazia cristiana sembra avviata dal successo l'iniziativa del segretario De Mita per un accordo unitario con la minoranza che fa capo a Forlani. Unità non formale proprio perché legata a un discorso politico, quello del ruolo della democrazia cristiana e delle sue alleanze, in particolare con i socialisti. De Mita in sostanza ha detto che la DC non può governare insieme con i comunisti e quindi l'attuale alleanza A5 non ha alternative, ma anzi va rilanciata. Di qui la proposta di un patto per lo sviluppo, cioè di un programma comune dei 5 partiti perché gli italiani sappiano quali sono i problemi del paese che la maggioranza vuole affrontare e risolvere. Così si garantisce al paese stabilità di governo e si può meglio affrontare la riforma delle istituzioni, riforma alla quale anche i comunisti non possono che essere interessati. DC e PC restano forze alternative, dice in pratica De Mita e i socialisti dovranno decidere da che parte stare. Sempre tesa la situazione in Polonia, ancora scontri tra manifestanti e polizia a Nuova Uta, dove ieri era morto l'operaio di 20 anni colpito dalla polizia. Gli incidenti sono nati quando la folla che si era radunata stasera sul posto dove Bogdor Guosic era stato colpito a morte è stata caricata dalla polizia che è intervenuta duramente. C'erano 5 o 600 persone che scandivano slogan a favore di Solidarnosc. Queste immagini sono state riprese questa mattina appunto nel luogo dei disordini. In tanti hanno continuato a mettere i fiori dove il giovane è stato colpito. Molti sono giovanissimi, come vedete addirittura bambini, proprio quelli cioè che la propaganda del regime cerca, senza riuscirci, di condizionare. L'arresto di Natalia Ligos a Torino. La brigatista rossa si è dichiarata prigioniera politica e non risponde alle domande. Ieri, al momento dell'arresto, dopo aver in vano tentato di estrarre una pistola, ha gridato più volte «Sono Ligas, detenuta politica», per avvisare i complici che erano nei pressi e che sono riusciti a fuggire anche perché la stazione era affollatissima e se gli agenti avessero usato le armi sarebbe stata una carneficina. La Ligas era probabilmente a Torino da alcuni giorni per riorganizzare la distrutta colonna piemontese delle Brigate Rosse. È arrivato a Roma l'estremista di sinistra Roberto Martelli, estradato dal Portogallo dove era stato arrestato lo scorso anno. L'estradizione è avvenuta dopo che il Martelli aveva finito di scontare la pena che era stata inflitta in Portogallo per aver usato documenti falsi, il filmato che alle mie spalle dovrebbe riguardare l'arrivo di Martelli. In Italia Martelli è accusato di partecipazione a bando armata, rapine e ferimenti, apparteneva alle cosiddette unità combattenti comuniste. E torniamo alla politica interna. Oggi c'è stato l'atteso incontro tra i dirigenti comunisti e quelli socialisti sui problemi della politica economica. Non c'erano Craxi e Berlinguer, ma tra gli altri Martelli, Labriola è forte da un lato, Chiaromonte e Napolitano dall'altro. In un comunicato congiunto, dopo 4 ore di lavori, socialisti e comunisti fermo il diverso ruolo. Uno partito di governo, l'altro partito di opposizione, hanno detto di ritenere possibile e necessario un rilancio degli investimenti e dello sviluppo nell'ambito di una politica di rigore, di equità e di risanamento. La lotta alla mafia. Il Presidente del Consiglio Spadolini è a Palermo, dove è in corso una riunione alla quale prendono parte vari ministri, tra i quali quelli dell'interno, della difesa e della giustizia, tutti i responsabili dell'ordine pubblico dell'isola. Spadolini in precedenza si era incontrato con gli studenti universitari di Palermo. Per combattere il fenomeno mafioso, ha detto, è necessario il coinvolgimento di tutte le componenti sociali e culturali e quindi, soprattutto, del mondo della scuola. Gli autisti degli autobus romani, che la prossima settimana aderissero allo sciopero proclamato dal sindacato autonomo, rischiano di venire arrestati. Infatti, il Prefetto di Roma ha firmato l'ordine di precettazione per impedire il blocco di un servizio pubblico essenziale, come quello dei trasporti urbani ed extraurbani. Blocco programmato dagli autonomi proprio nelle ore in cui gli autobus sono più usati da lavoratori e studenti. Sapete di che si tratta? Gli amanti del vino distolgano lo sguardo, perché il liquido che viene pompato in queste piscine dalle paliti foderate di plastica è vino, o meglio, è qualcosa che dovrebbe diventare vino. Siamo in Svizzera, dove quest'anno c'è stato un raccolto record di uva e quindi i recipienti appositi non sono stati sufficienti e vengono quindi usate piscine e cisterne per far fare al vino la prima fermentazione. Tanti auguri agli svizzeri che poi verranno quel vino, noi per fortuna abbiamo il nostro. E chiudiamo con le brevi previsioni del tempo che ci ha sintetizzato il colonnello Baroni. Regioni nord-occidentali, tempo discreto, in lieve graduale peggioramento. Nord orientali e centro, tempo buono. Sud e Sicilia, tempo incerto, ma in miglioramento. Temperatura in aumento. Un'ultima briciola di cronaca. Questa notte i soliti ignoti hanno scassinato una cassaforte all'interno di un ufficio dell'Enel a Roma. La cassaforte è stata aperta, ma con la fiamma ossidica e così i 15 milioni che c'erano dentro sono finiti incendere. Stasera non c'è il commento perché siamo nell'intervallo del film. Grazie per averci seguito. Arrivederci domenica.